A tutti buonasera e ben ritrovati a ITG Emilia Romagna. In primo piano questa sera la politica, politica nazionale. Ovviamente tutti stiamo seguendo quanto sta succedendo a Roma. Sono terminate nel tardo pomeriggio di oggi le consultazioni del Capo dell'Stato con tutti i gruppi parlamentari. L'ultimo è stato l'incontro con il gruppo del PDL e tra poco il Presidente della Repubblica Napolitano conferirà come previsto l'incarico di formare il nuovo governo al Professor Mario Monti. È stata una giornata molto molto intensa con le posizioni diverse dei vari gruppi parlamentari, con l'appoggio netto di alcuni gruppi, un po' meno netto da parte dei gruppi del centro-destra. La Lega Nord ha già annunciato che starà l'opposizione, ma tiene banco tra l'altro anche il videomessaggio che dovrebbe essere registrato in serata dal Premier uscente Silvio Berlusconi e soprattutto i contenuti di questo videomessaggio che potrebbero in qualche modo suscitare ancora polemiche. Sappiamo che non c'è senz'altro un clima disteso tra le varie parti e politiche. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. L'unica cosa certa appunto è l'incarico al Professor Mario Monti per commentare la situazione politica, però siamo in collegamento con un esperto di queste cose, il Professor Paolo Pombeni. Buonasera Professore. Buonasera a lei e ai telespettatori. Allora, come dicevamo, situazione politica molto molto interessante, in divenire tante le cose da dire di oggi. Partiamo subito da questo videomessaggio di Berlusconi. Che cosa ci sarà secondo lei? Questo non glielo so dire, è il fatto in sé che è nuovo. Fino adesso nessun Presidente che si era dimesso si era mai rivolto direttamente via televisione, diciamo così, alla cittadinanza. Di solito le dichiarazioni venivano fatte o in una conferenza stampa o in una sede parlamentare, quindi questo è un po' un gesto populistico. Penso che in qualche modo Berlusconi vorrà rivendicare alcuni capisaldi di quello che lui ha fatto. Penso anche, però non lo so, che vorrà forse anche difendersi da una serie di critiche o di attacchi che gli sono piovuti addosso. Ecco, professore, il flima politico certamente non è dei migliori. Anche il segretario del PDL Alfano, in serata, ha ricordato queste manifestazioni di piazza di entusiasmo, di giubilo, che ci sono state ieri sera alla notizia delle dimissioni di Berlusconi. Ci sono state molte critiche da parte dello stesso PDL proprio nei confronti di queste manifestazioni che, dice appunto il popolo della libertà, non contribuiscono a creare un clima di unità nazionale come si vorrebbe. Ma, sa, temo che in questo caso chi c'è un evento raccoglie tempesta. Quindi il fatto che si sia lasciato crescere per anni questo clima da guerra civile, da scontro di guerre fighi bellini, alla fine abbia avvelenato tutti. È difficile trovare persone innocenti di questa situazione. Certo, ci sono delle persone ragionevoli, ci sono degli editorialisti, degli uomini di pensiero che hanno fatto il possibile per tenere il Paese lontano da questo, ma purtroppo era una minoranza. Devo dire che tanto da destra come da sinistra si è fatto di tutto per trasformare la politica in una grande rissa. E questi sono i risultati che purtroppo pesano negativamente sull'immagine del Paese e l'immagine del Paese è una cosa importante in questo momento in cui siamo sotto attacco sul fronte internazionale. Ecco, Mario Monti avrà senz'altro l'incarico, non è ancora pronta probabilmente la lista dei ministri ma soprattutto avrà un incarico molto difficile, una bella gatta da pelare, come dicono in tanti, c'è quello di riuscire in qualche modo a fare dei provvedimenti, delle leggi che riescano a traghettare l'Italia al di fuori da questa pesantissima crisi economica e riuscire a farle soprattutto votare dal Parlamento, da un Parlamento un po' eterogeneo in questo momento, senza altro. Ma certamente il compito di Monti è un compito tutto in salita perché chiaramente per uscire da questa situazione bisogna, come dire, arrendersi all'idea che tutta una serie di privilegi che sono avuti nel passato non saranno più possibili nel futuro perché il mondo è cambiato, è cambiato in maniera profonda. Soltanto che chiaramente la gente fa un po' fatica ad accettare questo, si può capire perché fare sacrifici non piace a nessuno e purtroppo una politica irresponsabile continua a tollerare il fatto che ci siano quelli che vanno in giro a urlare che la crisi non la paghiamo noi, quelli che pensano che si possa fare meno della patrimoniale, quelli che pensano che possiamo continuare a regalare pensioni di anzianità a destra-sinistra e via dicendo. Qui ci vuole uno sforzo collettivo di tutti per capire che se il mondo cambia dobbiamo per forza di cose cambiare anche noi. Certo, dovremo accontentarci di condizioni diciamo meno favorevoli di quelle che abbiamo avuto in passato, ma siamo stati talmente bene che un piccolo scortamento all'indietro non presuppone nulla di drammatico. Certo, certo. Ecco, professore, si andrà, le chiedo un'ultima cosa, secondo lei quando si andrà invece alle elezioni? Come molti chiedono, la Lega prima di tutti, ma ovviamente alcune forze politiche già dicono sostanzialmente facciamo le cose che ci chiede l'Europa e poi andiamo subito al voto. Ma guardi, allora, qui bisogna dire una cosa, dipende come andranno le cose, perché se l'opinione pubblica si convincerà che questa medicina è amara ma funziona, nessuno riuscirà a buttare giù Monti fino alla naturale scadenza della legislatura, cioè a metà 2013, perché naturalmente chi lo butta giù si prenderebbe la responsabilità di andare da perdente alle elezioni. Se viceversa l'opinione pubblica non si convince di questo, cresce questo clima di scontro di tutti contro tutti, allora purtroppo può darsi che questo governo non duri molto e che, non so dirle quando, ma insomma a una qualche data, nella prima metà del 2012 si finisca per andare a votare. A mio modesto giudizio sarebbe una debacle. Benissimo, professore, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie ancora al professor Paolo Pombeni per aver fatto il punto sulla situazione politica, situazione politica davvero in divenire proprio in queste ore, naturalmente vi daremo aggiornamenti anche domani nelle varie edizioni del nostro giornale. Torniamo adesso strettamente alla cronaca un po' più locale, andiamo a Bologna, andiamo a vedere cosa sta succedendo per ciò che riguarda le occupazioni, diverse occupazioni sono state fatte in questi ultimi giorni nel capologo emiliano da parte di gruppi di indignati, il comune ha già predisposto a ordinanze di sgombero, ma i giovani hanno già detto sostanzialmente che non se ne andranno, il punto in questo servizio. Nella centralissima via Clavature da parte dei sedicenti Draghi Ribelli, sigla dietro cui si celano diversi centri sociali e collettivi di studenti, tutti accampati con tende e generi alimentari. I locali sono di proprietà dell'Ausl. Ecco, non era questo il servizio, dovremmo vedere tra pochi istanti appunto il punto della situazione, andiamo avanti adesso con il giornale, vediamo se è pronto il servizio, mi dicono della regia che è pronta, allora possiamo vederlo subito. I vigili urbani hanno notificato questa mattina l'ordinanza di sgombero agli indignati che da giovedì scorso occupano l'ex mercato di mezzo di via Clavature, a due passi da Piazza Maggiore. L'ordinanza era stata preannunciata dal sindaco Virginio Merola ieri e giustificata con l'illegittimità dell'occupazione e con problemi di sicurezza. Nonostante l'ordinanza però gli occupanti hanno deciso di non andarsene, la situazione per ora è tranquilla anche se dalla loro pagina web i cosiddetti Draghi Ribelli pungono Merola definendolo un sindaco un po' in crisi d'identità. Se Merola fosse venuto all'ex mercato in questi giorni avrebbe visto che si parla molto di crisi, si parla delle nostre vite, si parla dei problemi che ogni giorno viviamo, dicono gli occupanti. Intanto è stata lanciata l'idea di andare domani a Palazzo d'Accursi o durante il Consiglio Comunale. Resta da vedere quale sarà l'atteggiamento del Comune alla luce dell'ordinanza se gli occupanti non abbandoneranno la struttura. Tra le strutture occupate c'è anche l'ex cine Marco Baleno. I giovani spiegano i motivi della loro azione dicendo di essere arrivati all'occupazione dopo un percorso di assemblee e alla luce dell'emergere di bisogni ed esigenze comuni a cui cercare di trovare risposte. Il progetto è un'occupazione e duratura, ma il sogno sarebbe quello di ridare uno spazio inutilizzato da anni alla città. L'obiettivo minimo intanto è arrivare al 17 novembre, prossima data di mobilitazione internazionale, e al 26 per il corteo nazionale sull'acqua. La cronaca è precipitata in un dirupo ed è caduto rotolando per circa 80 metri, riportando la frattura di una gamba e della spalla sinistra. È accaduto la notte scorsa in Alta Versiglia, nel comune di Stazzema, in provincia di Lucca, protagonista uno speleologo bolognese di 48 anni. L'uomo faceva parte di un gruppo di otto speleologi bolognesi arrivati in Alta Versiglia. Una volta terminata l'escursione, intorno a mezzanotte, il gruppo ha iniziato il rientro verso un rifugio, quando lungo un sentiero il 48enne è precipitato scivolando per circa 80 metri. A dare l'allarme sono stati i compagni di escursione che hanno chiamato il 118. È stata poi attivata una squadra del soccorso alpino di Querceta, arrivata sul posto con 10 persone oltre ad un medico. Una volta accertate le condizioni del paziente, che è sempre rimasto cosciente, sono iniziate le operazioni per il recupero. Ha fatto intervenire l'elisoccorso, arrivato intorno alle 7 per trasferire lo speleologo all'ospedale di Pisa. Parliamo adesso di crisi economica, un argomento ovviamente di grande attualità. Gli industriali bolognesi, nonostante il momento difficile, sono comunque ottimisti. Possiamo farcela ad uscire dalla crisi, dice il vicepresidente di un'industria Roberto Kerkoc, che aggiunge le imprese che esportano di più regano meglio in questo momento. Difficile. Sentiamo Giuseppe Piloni. È una sfida difficile, ma il nostro tessuto imprenditoriale ci consentirà di fronteggiare la crisi economica e di superarla meglio di altri. Ad affermarlo è il vicepresidente di un'industria, Roberto Kerkoc. Il tessuto economico bolognese non è più in difficoltà di tutti gli altri tessuti. Io credo che la tradizione e l'attaccamento al territorio siano una cosa molto importante che contraddistingue un territorio di eccellenza. Credo che logicamente la situazione di difficoltà è soprattutto una difficoltà, credo, dei mercati italiani per noi produttori bolognesi. Quindi chi ha la fortuna di esportare o di poter fare dei progetti di export avrà una maggiore facilitazione rispetto a chi invece lavora solo per il territorio nazionale, che comunque speriamo che da qui a breve abbia un rilancio. È chiaro che bisogna in questo momento avere la forza di fare delle analisi molto profonde, di essere molto critici e avere la forza di modificare le proprie aziende ma modificarle dal punto di vista strategico cercando un giusto posizionamento per i prodotti perché andare in Cina può andare bene per produrre ma diciamo io non ricordo invenzioni cinesi che abbiano lasciato alla storia. I cinesi sono in grado di prendere la tua idea che è molto innovativa e poi di produrtela al minor prezzo possibile. Intanto molti risparmiatori in questi mesi sono alle prese con il recupero dei cosiddetti fondi dormienti che rischiano di finire in un fondo dello Stato. C'è però il modo per recuperare tutti i soldi e ottenere anche buoni interessi. Vediamo in proposito il servizio di Massimo Ricci. Fondi dormienti. Sono definiti così conti non utilizzati dai titolari sui quali non vengono effettuate operazioni a iniziativa del titolare per un periodo di almeno 10 anni. Si tratta soprattutto dei libretti di deposito che nonni, zie e genitori hanno creato per i risparmi di figli e nipoti. Se questi conti vengono classificati come dormienti rischiano di finire in un fondo nella disponibilità dello Stato. Ci sono però diverse possibilità per chiedere la restituzione del denaro come spiega l'avvocato Franchi dello studio BDF. Se i libretti sono al portatore ci si può rivolgere direttamente all'ente Consap e fare domanda. Ma la maggior parte di questi libretti sono nominativi. La banca aveva l'obbligo, in forza di una legge, di comunicare al titolare del conto che aveva 180 giorni per evitare l'estinzione. Se la banca non ha fatto questo, e cioè non ha comunicato al titolare del libretto che aveva 180 giorni per evitare l'estinzione, allora la banca è soggetta a un'azione di danni. Azione di danni che potrà essere proposta contro la banca e qui devo dire c'è la possibilità di prendere anche molti più soldi perché si potrà chiedere sia il denaro investito, sia gli interessi nel frattempo maturati, sia la revalutazione monetaria. E io ho visto dei libretti che erano stati emessi ad esempio nel 34 di 5 mila lire, un libretto nel 34 di 5 mila lire, andando avanti con la rivalutazione e gli interessi arriviamo a centinaia di migliaia di euro. Due notizie di cronaca, la Polizia Stradale di Reggio e la Polizia di Frontiera Marittima di La Spezia hanno smantellato un sodalizio criminale accusato di riciclare ingenti quantitativi di merce rubata di diversa natura. Al termine delle indagini sono state denunciate a Bologna per il reato di ricettazione, in concorso tra loro tre persone, un autotrasportatore di Caserta di 31 anni, residente in provincia di Reggio, un imprenditore 44enne di Bologna e l'autista di un auto articolato, un reggiano di 33 anni. Sono stati poi arrestati a Brescia Sandro Laratta, 30enne residente in provincia di Reggio e Nicola Abrami, 33enne bresciano, titolare di una ditta. Il valore complessivo della merce recuperata monta a circa 500 mila euro. Sono entrati in quattro con il volto coperto da una sciarpa in un centro scommesse SNAI di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Uno dei rapinatori ha minacciato un'impiegata con una pistola, si è fatto consegnare l'incasso della giornata insieme ai complici e fuggito a piedi. È successo ieri sera verso le 21.30 in via Vittorio Veneto alla ricerca dei quattro malviventi, descritti come italiani, i carabinieri. Bottino è di oltre 15 mila euro. Parliamo adesso di una vicenda che a Bologna sta facendo discutere, cioè il possibile ingresso di alcune associazioni gay nella consulta per la famiglia del comune di Bologna. Oggi è uscito su questo tema un articolo di Bologna 7, l'inserto domenicale del quotidiano L'Avvenire. Apprendiamo che la segreteria generale del comune avrebbe rilevato che nulla osta al fatto che due associazioni dichiaratamente espressione del movimento gay possano far parte della consulta delle associazioni familiari, scrive il giornale. Ciò comporterebbe che le due menzionate associazioni entrerebbero da subito a far parte della consulta, organismo che accoglie movimenti e associazioni che fanno esplicito riferimento alla concezione di matrimonio e famiglia come stabilito dall'articolo 29 della Costituzione. A questo punto, al di là del percorso formale richiesto dalle procedure, ci pare che debba ora prevalere quel buonsenso comune che è patrimonio della nostra gente, la quale sa benissimo che cosa è matrimonio e cosa è famiglia perché a dirglielo è la stessa legge naturale, cioè quella legge connaturata alla persona umana. Questa fiducia nel patrimonio di buonsenso naturale e comune che ancora caratterizza la nostra società, farci sperare che le numerose associazioni cattoliche che già fanno parte della consulta agiscano sempre, ma specialmente nei momenti decisivi della loro identità, in coerenza con i loro valori di riferimento. In argomento, conclude il giornale, ricordiamo che questi sono magistralmente riassunti nella nota dottrinale matrimonio e unioni omosessuali del Cardinale Arcivescovo. Questa è dunque la posizione della Chiesa di Bologna sul tema che tanto sta facendo discutere. Siamo in chiusura, siamo soltanto a ricordare i risultati del campionato di calcio. Oggi non si è giocata la Serie A per gli impegni della Nazionale, quindi vediamo intanto i risultati di Serie B. Il Sassuola ha conquistato la quinta vittoria esterna stagionale, sbancando lo stadio di Gubbio per 1-0 con la rete segnata da Sansone al dodicesimo. L'Empoli invece ha battuto il Modena per 2-0, i gol nella ripresa al decimo Tavano e al trentatresimo Boucher. Pesante la contestazione per la sconfitta interna da parte dei tifosi del Modena nei confronti della società, del tecnico e dei giocatori. Situazione di classifica del Modena già adesso piuttosto difficile. Infine i risultati del campionato di prima divisione, Girone A, Reggiana Spalla, l'atteso derby è finito 3-0 per la Reggiana, mentre il Carpi ha perso sul campo del Combo per 1-0. È tutto per questa edizione del nostro giornale, mi fermo qui, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.